Archiviata la gara persa con la Sangataldese la prima stagionale, l'Akragas si rituffa nel campionato ed in questi giorni si è ricombattato in vista del derby con il Canicatti di Pippo Romano. Si giocherà al Saraceno di Ravanusa, campo amico della compagine bianco-rossa, con l'intento di continuare a scalare la classifica generale. Il capolista adatte lo viaggia a gonfievele ed a punteggio pieno, per cui se si vuole rimanere attaccate all'alta classifica occorrerà non subire altre battute di arresto. La situazione dello spogliatoio è migliorata parecchio in settimana ed è assai probabile che alcuni giocatori fermi ai box possano ritornare in campo. Mercoledì scorso, anche se per pochi minuti, si sono rivisti Procida, Treppiedi e Pirrone, i quali hanno fatto vedere qualcosa di positivo. Contro il Canicatti, osservati speciali, saranno due ex bianco-rossi, il difensore Alfonso Cipolla e Salvatore Treppiedi. Proprio quest'ultimo è canicattinese di nascita e con la squadra del 2 Italia ha militato nella stagione 2017-2018 timbrando il cartellino 27 volte e segnando anche un paio di reti. Da parte bianca-rossa si registra un'assenza molto importante, quella del capitano Francesco Maggio appiedato dal giudice sportivo. Questo derby, che ritorna a giocarsi dopo tantissimi anni, verrà diretto da un arbitro che arriva dalla Sardegna, e più esattamente dalla Federazione di Alghero. Si tratta di Davide Galiffi, il quale verrà assistito da Cristiano Tina di Siracusa e Antonino Alessio di Paola di Catania. Per quanto riguarda le altre gare della giornata, la Profavara ospita il Cusse Palermo, il capolista Dattelo se la vedrà in casa con l'inseguitrice Sporting Vallone, mentre la Sangataldese al Valentino Mazzola e duellerà con il Don Carlo Misidmele.